Finito, già finito, l'incantato tempo dei rami in fiore? Come quando sul più bello del ricamo finisce il filo da ricamo? Questa è la mia. Siamo innamorati tutta la vita, cominciamo l'asilo e alcuni non smettono mai. La differenza grande adesso per me è che prima comunicavo all'interessato di essermi innamorata, adesso non lo comunico più perché non penso che nessuno voglia essere amato da un'ottantenne. Allora mi tengo il segreto per me, lo coltivo, molte poesie parlano di questo, forse ha un decorso minore perché non è nutrito da due parti, però durante questo periodo provo la felicità dell'amore. E comunque il libro non parla solo di questo amore per un uomo ma parla anche di ogni figlia. Non so chi l'ha definito un pan amore e che va a toccare il regno vegetale, cioè poesie con foglie, poesie sugli animali addormentati, poesie su figlia, sulla mia figlia, su mia figlia e i figli di mia figlia, poesie sul cinematografo, una sezione tutta cinematografica, poesie per me stessa naturalmente, anche io mi voglio bene e che sono intitolate io non sono morta, io sono viva.